Venite ora, giudicati da Dio, alla fine quanto capirete, forse il vostro status non è alto, voi direte, ma adesso godrete dell'innalzamento di Dio. Partiti dal basso, non avete reputazione, è quella che vi è stata data. È tutta dovuta all'elevazione di Dio, è ciò che Dio vi ha donato. Oggi potrete ricevere l'insegnamento e il giudizio di Dio. Il castigo, il fuoco, la purificazione, questi sono tutti simboli e segni del grande amore di Dio. E ancora di più della sua grande elevazione. Prima d'ora nessuno era stato perfezionato dalle parole di Dio. Nessuno ha ricevuto il suo fuoco e la sua purificazione. Dio parla per purificarvi e mostrarvi la vostra ribellione. Questa è davvero la sua elevazione. Che siano figli di Davide o Moab, non hanno nulla di cui vantarsi. In quanto creature di Dio, fate il vostro dovere per Lui. Non ci sono altre richieste per voi. Oggi potrete ricevere l'insegnamento e il giudizio di Dio. Il castigo, il castigo, il fuoco, la purificazione. Questi sono tutti simboli e segni del grande amore di Dio. E ancora di più della sua grande elevazione. Dio parla per la sua grande elevazione.